Professore Mulè, sono ormai anni che lei chiede la rimozione degli alberi di Ficus di Piazza Umberto I e spiega anche otto validi motivi. Quali sono questi motivi? Innanzitutto devo dire che dagli anni 90 ogni amministrazione che cambia, l'archeoclub sulla base delle esigenze dei cittadini, perché non è che se le sogna dall'oggi al domani queste denunze, quindi sulla base della richiesta di migliaia di cittadini dagli anni 90 in poi ogni amministrazione che cambia fa la solita lettera di eliminazione di questi alberi. Fino ad adesso non ci siamo riusciti. Adesso con questa nuova amministrazione ho fatto una lettera aperta in cui espleto tutta una serie di situazioni, in particolare otto motivi che a nostro modo di vedere consentirebbero la restituzione alla città di questo salotto di Piazza Umberto I che è stato sotto l'aspetto del decorurbano e non solo sotto l'aspetto del decorurbano ridotto ai minimi termini. Possiamo passare velocemente, rassegna questi otto motivi. Sono otto motivi, otto motivi il fatto che non si riescono a vedere nella loro integrità i palazzi storici prospicenti alla piazza, compresa la chiesa madre, anzi quei due alberi che hanno tolto già consentono una buona visione della chiesa stessa. Poi dal punto di vista della riduzione della superficie della piazza che sembra molto piccola perché le come di questi alberi l'hanno completamente stravolta e poi altre situazioni, però ce n'è una importante che a mio modo di vedere rappresenta un'emergenza sanitaria perché gli escrementi degli uccelli una volta che si essiccano, si polverizzano, vengono respirati e poi peggio ancora per chi ci passa sopra, si porta presso sotto la sola delle scarpe questi escrementi e quindi va a contaminare possibilmente anche il pavimento della propria casa. Quindi a mio modo di vedere sarebbe ora che finalmente questa amministrazione rispetto alle altre mettesse in opera l'eliminazione di questa indecenza che poi si riduce a un decoro urbano vero e proprio.